Un punto virgola sedice a partita, sperando che basti. E quanto servirebbe al Teramo nella parte 2 del campionato, quella che parte sabato 8 gennaio a Siena, per raggiungere la quota dei 40, che dovrebbe, condizionale assolutamente d'obbligo, permettere di centrare la salvezza. Insomma, basterebbe elevare di pochissimo una media punti che ora recita uno a partita, 19 punti in 19 impegni. Dirlo sembra più semplice che farlo però, perché il diavolo che torna oggi ad allenarsi con una seduta pomeridiana avrà una ripartenza da brividi. La trasferta di Siena, per l'appunto, apre il nuovo anno e poi in casa. Arriva un Modena lanciatissimo, ma che sempre sabato 8, incrocerà le spade con la Reggiana nello scontro diretto al vertice e potrebbe subire contraccolpi, positivi o negativi, del risultato del Mappei Stadium. In più, la questione ruota attorno alla possibilità o meno di poter dare a Federico Guidi qualche elemento per invertire la rotta. Non è semplice, visto che le vicende societarie vanno sbrogliate nel minor tempo possibile, per fare in modo che si possa pensare ad una programmazione calcistica. La pronuncia della Coaps tarda ad arrivare. Il custode giudiziario a strettissimo giro incontrerà la dirigenza, sia la parte di maggioranza che quella di minoranza. Anche in considerazione del fatto che allo stato attuale il Teramo ha un'autonomia a livello di cassa limitata ai prossimi due mesi. Sempre che non arrivi qualche offerta per qualcuno dei calciatori attualmente inorganico, anche se vista la lenta progressione del gerone d'andata, nessuno pare essersi messo in luce a tal punto da far accendere i riflettori del mercato su di sé. Nel frattempo, finché non ci sarà il semaforo verde per poter procedere all'ingresso di capitali, il tecnico bianco-rosso dovrà pensare a rinvigorire un gruppo che vive un momento di assoluta difficoltà, ma che se si guarda il prospetto delle partite disputate in stagione ha sempre viaggiato a strappi. Quattro vittorie con Viterbese, Pistoiese, Fermana e Pontedera, due in casa e due in trasferta, ma poi è stato sempre ciclicamente soggetto a ricadute con risultati negativi che hanno neutralizzato i successi appena ottenuti. Il Bonolis violato troppe volte, cinque, e che non riesce ad essere un fortino, quello che serve ad una squadra che punta alla salvezza. La priorità di Guidi sarà il ripristino della tenuta difensiva, dalla quale passano le fortune o meno del diavolo bucato più di ogni altro. Non prenderle, per una formazione che segna pochissimo, significa anche riuscire a strappare un risultato positivo nelle gare complicate, quelle equilibrate, quelle che il diavolo ha dimenticato, considerate le uscite recenti che lo hanno visto sommerso di reti senza capacità di reazione. Ed è questo, la mancata reazione, l'aspetto più preoccupante che rende scettici sulla possibilità di arrivare a 1.16 a partita, un percorso non impossibile, ma di certo a cui servirebbero ben altri presupposti.